Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Mina, sono il primo dei secondi violini dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Io resto a casa come tutti i miei colleghi e naturalmente in questo momento così difficile, oltre a studiare il violino e a stare con la mia famiglia e a dedicarmi ai miei hobby, le piante, il pianoforte, che è un altro strumento che amo tantissimo, cerco di trasformare positivamente questo tempo che abbiamo dentro casa per riflettere, per stare con la mia famiglia. Il percorso musicale che ho vissuto parte tanto tempo fa, quando sono entrato in conservatorio a dieci anni, prima suonavo il pianoforte e poi anche sul consiglio di mio padre sono passato al violino, lo ringrazierò sempre tutta la vita di questa cosa. Dopo dieci anni di conservatorio sono entrato in l'orchestra Santa Cecilia, ero molto giovane, avevo 22 anni e ormai sono 30 anni che sto lavorando dentro l'orchestra, ho vissuto insieme ai miei colleghi questo percorso che ha visto una crescita artistica esponenziale dell'orchestra con grande soddisfazione, devo dire, ci troviamo adesso a un livello internazionale con l'orchestra e sono cose che fanno veramente piacere. Il violino è uno strumento che di per sé soffre a stare da solo, la prima cosa che ho capito suonando insieme agli altri da piccolo era che la cosa più bella che si può fare con questo strumento è suonare insieme, stare insieme agli altri e creare la musica insieme. A tale proposito vi mando un piccolo brano di Elgar che ho realizzato con il mio amico d'infanzia, appunto Michele D'Ambrosi, un pianista con cui suono da sempre, per un concerto che abbiamo realizzato a favore della ricerca medica. Il brano è un brano di Elgar e si chiama Salute nur. E un saluto anche a tutti voi, sperando di rivedervi prestissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.